Ciao a tutti e benvenuti in questo primo video di Silviembre. Sono super felice di iniziare questa serie quest'anno perché per me e per voi in particolar modo quest'anno avrà un significato molto particolare. Recap. Silviembre è l'unione del mio nome con settembre, nonché mese del mio compleanno ma mese in cui generalmente tanti di noi ripartono. L'intenzione di questi video è quella di far sì che voi prendiate questa idea e la rendiate vostra, quindi che non sia Silviembre ma se ti chiami Giulia Giuliembre, se ti chiami Francesca Franceschiembre. L'idea è che per tanti settembre è un mese di ripartenza dove si fanno tantissimi buoni propositi e qui noi non solo faremo buoni propositi ma cercherò di darvi tanti consigli per ripartire veramente con il piede giusto, con la giusta motivazione per non perdersi subito, per non sentirsi sopraffatti. Penso che un momento zero dove si dice da oggi inizio sia necessario. Io credo fermamente che da cosa derivi cosa, però ci deve essere un momento in cui inizi veramente e le cose non piovono addosso, quindi bisogna andare a cercarsele, bisogna far sì che ci sia quell'innesco per il quale poi da cosa deriva cosa, quindi ci deve essere un punto di partenza. In questo video piuttosto che raccontarvi i miei piccoli obiettivi per quest'anno, voglio focalizzarmi più su una intenzione che io ho per quest'anno. Due anni fa vi ho raccontato come la mia intenzione era quella di smettere di credere al giudizio altrui e di autogiudicarmi. L'anno scorso mi ero molto focalizzata sull'organizzazione, sull'essere pronta ad affrontare senza sentirmi sopraffatta, quest'anno voglio focalizzarmi sul imparare o diventare più connessi con se stessi. Questa è una cosa che io piano piano quest'anno sto implementando e ho reso molto mia e quindi mi sento di darvi qualche consiglio, cinque consigli, per diventare o imparare a essere un pochino più connessi con se stessi in base alla mia esperienza. Ovviamente ho fatto una mappa concettuale perché se avete visto Silviembre dell'anno scorso saprete che un grande alleato per essere sempre organizzati e non sentirsi sopraffatti sono le mappe concettuali e quindi questa è quella di questo video, questa è quella del prossimo, sono on fire e quindi iniziamo. Allora, come diventare più connessi con se stessi? Un grande consiglio che vi posso dare è quello di evitare distrazioni appena svegli. Può sembrare una banalità ma mi sto veramente impegnando a non toccare qualunque device fino a che non ho finito di prendere il caffè. Quindi da che mi sveglio, mi sistemo, vado in bagno, faccio colazione e non ho preso il caffè, io non tocco telefono, tv, computer. Questo perché ho notato che se io la prima cosa che faccio è svegliarmi e accendere il telefono e guardare, entrare nel mondo, controllare le notifiche, le mail, chi mi ha scritto, oppure accendere la tv, connettermi con un mondo esterno, accendere la tv, guardare qualcosa mentre mangio, noto che è come se io svegliassi il mio cervello, dicessi ehi buongiorno, io ti blocco. Perché lo schermo è fonte di distrazione e incanala i pensieri, la testa, verso un'unica direzione. E invece ho notato che se io mi sveglio e faccio le stesse identiche cose, ma in silenzio, cioè senza mettere un blocco, uno schermo davanti, i miei pensieri viaggiano a mille, mi sento molto più creativa, mi vengono subito un sacco di idee, la mia testa è sveglia, è attiva. Ed ecco una cosa, sembra quasi che quando mi sveglio e prendo il telefono il mio cervello si spegne subito perché dice ok, non hai bisogno di me, non hai bisogno che io sia attivo. E invece se io non lo stimolo esternamente, è come se lui si dovesse autostimolare. E quindi incomincia già a pensare in modo profondo, in modo attivo e questo è per me molto utile per iniziare la giornata già ascoltando le mie sensazioni, come ho dormito questa notte. Se mi metto già un telefono davanti non lo so, non lo so come ho dormito perché sono già dentro la mail, dentro la notizia, dentro la puntata di Netflix e non me lo chiudo nemmeno. È una cosa che può essere fatta gradualmente. Se si è abituati a accendere subito la televisione, ascoltare le news, magari leggiamole. E infatti a volte mi capita di magari mettermi a leggere, fare la stima enigmistica, leggere delle news. E secondo me questo è uno step intermedio tra il non distrarsi con nulla e il distrarsi con device elettronici. Quindi distrarvi sì, ma con qualcosa che comunque stimola la mente. Secondo modo per diventare più connessi con noi stessi per me è stato scrivere. Difficile, lo so. La domanda più popolare che ricevo quando faccio vedere che la mattina scrivo è come iniziare a scrivere. In realtà non c'è un come, non c'è un cosa, devo scrivere, c'è soltanto un apri il quaderno, scegli un quadernino tuo personale che sai che non leggerà nessuno e inizia a buttare giù. Anche solo ti puoi mettere l'obiettivo di scrivere tre pensieri che possono essere i più banali del tipo oggi c'è il sole, a oggi ho male a un ginocchio, a mi sono svegliata con la luna storta. Possono essere queste tre semplici cose e piano piano, vi giuro, succede, che piano piano quella frase, mi sono svegliata con una storta, si allunga. Perché ieri sera ho fatto questo? Perché c'è questo pensiero nella mia testa? Ma diventa una cosa super naturale e poco forzata se solo ci diamo l'opportunità di farlo. Se già partiamo con l'autogiudizio che ogni cosa che scriviamo è una cavolata, che sono una quindicenne perché mi sto scrivendo il diario, con la paura che qualcuno possa leggere il nostro diario, ci blocchiamo. Quindi proviamo soltanto ad aprire e scrivere e quello che esce esce. Rileggo? Io sinceramente non rileggo quasi mai perché la mia intenzione quando scrivo è proprio quella di buttare fuori dalla mia testa, vederlo scritto nero su bianco e fare dei percorsi mentali che magari quando erano solo dentro la mia testa erano troppo incasinati e quindi a me aiuta molto a liberarmi e anche a fare mente locale. Però di per sé non mi serve ad altro, cioè magari io dopo che ho finito di scrivere, chiudo, mi sono liberata, tipo ho sputato un peso e poi vado avanti con la mia vita. Se vi va, provate, io lo trovo veramente utile e veramente l'importante è iniziare, vi giuro, l'importante è iniziare. Poi piano piano verrà da sé, però dovete veramente sentirvi sicuri che ciò che scrivete sia solo vostro. Quindi prendetevi un quadernino, nascondetelo, non fatevi vedere che scrivete magari se avete paura, però è una cosa che vi consiglio veramente perché a me aiuta tantissimo. Non riesco a farlo ogni giorno, questo ci tengo a precisarlo perché poi sembra che io sia sempre perfettino. Non è assolutamente facile da fare ogni giorno perché è un po' pesante, comunque devi tirare sempre fuori le emozioni eccetera. Quindi a volte anche le emozioni devono essere un po' metabolizzate, quindi lo faccio quando ne sento bisogno, vorrei farlo più spesso, però non sempre ho il tempo e la possibilità, però è una cosa che mi aiuta veramente e quando non lo faccio sento che mi manca. Quindi io ve lo consiglio perché per me è terapeutico. Un'altra cosa è leggere libri o articoli sulla crescita personale. Allora, perché? Per ricevere nuovi stimoli, per acquisire nuovi spunti di riflessione e per aprire nuovi canali cognitivi. Questo perché noi abbiamo la nostra sfera, ma se rimaniamo sempre dentro la nostra sfera i nostri pensieri saranno sempre all'interno di questo cerchio. Se noi permettiamo a altri input di venire dentro la nostra sfera e noi cogliamo da questi input noi possiamo ampliare la nostra sfera. Questa cosa è la sfera bellissima. Io noto che è quando ricevo degli input dal mondo esterno, che può essere da libri, articoli, ma anche persone, esperienze di vita altrui, io imparo cose nuove e mi si apre la testa e mi si apre la testa anche nei miei stessi confronti. Quindi imparo delle cose nuove anche su di me. Quindi assolutamente sì, libri. Alcuni che consiglio, e io sono un pochino particolare, quindi so che tanti siete come me, ai libri di crescita personale io storco sempre un pochino il naso perché non apprezzo molti libri alla se vuoi puoi, cioè quelli dove c'è la copertina lui che, yes you can. Non ce la faccio, ragazzi per me proprio no, non funzionano su di me, ok? Però ho trovato molto utili dei libri che io reputo veramente intelligenti perché ti portano a riflettere sul senso della vita, ti portano a riflettere su diversi aspetti, ti aprono nuovi canali di pensiero, però lo fanno raccontandoti una storia, una sorta di romanzo. E quindi tu entri in empatia con il personaggio perché è un personaggio umano, un personaggio normale e è come leggere un libro, le varie vicissitudini di questa, del personaggio. Però tutta questa storia poi in realtà se riesci a cogliere l'interpretazione sul senso della vita ti insegna veramente tantissimo. Alcuni che io ho trovato veramente belli sono L'alchimista di Paolo Coelio e questo è un po' tanto, cioè se non ancora siete abituati a questo tipo di libro, magari non iniziato da questo perché c'è tanto elemento astratto e la storia c'è però è tanto astratta e magari qualcuno può perdersi su questo fronte anche se gli insegnamenti di vita di questo libro ha il potenziale veramente di cambiare la vita. A me è piaciuto veramente tantissimo. Un altro libro dal quale vi consiglio in realtà di partire è La biblioteca di mezzanotte di Matt Haig, uno dei miei libri preferiti perché Matt Haig ha proprio questa capacità di raccontare una storia inserendo un elemento assurdo, un elemento astratto che però è presente in tutto il libro, quindi ok tu sei consapevole di essere catapultato in un'altra dimensione tipo un fantasy, però tutte le esperienze che vive il personaggio sono molto reali con le quali riesci molto ad empatizzare e quindi entri in contatto, in connessione con il personaggio e poi gli insegnamenti di vita che è capace di dare tramite i suoi libri sono molto profondi e reali, ok? Quindi Matt Haig, La biblioteca di mezzanotte e How to Stop Time, io li ho letti e li ho trovati veramente stupendi. Se avete altri consigli di libri di questo genere fatemelo sapere perché li apprezzo tantissimo. Un altro consiglio è facciamo una cosa per volta. Questo riporta tanto a quello che ho detto all'inizio, il primo consiglio della morning routine silenziosa, però questo mi riferisco proprio anche durante il resto della giornata. Facciamo le faccende guardando la televisione, mangiamo guardando la televisione, ascoltiamo la musica mentre ci alleniamo, mentre facciamo la doccia, quindi c'è sempre qualcosa che mettiamo davanti a noi come distrazione e quel qualcosa ci separa molto dalle nostre emozioni, cioè come se non dessimo la possibilità al nostro corpo, alla nostra testa di essere ascoltata. Una cosa che io sto cercando di fare perché è difficile, questa è veramente difficile, è imparare a fare una cosa per volta per dare la possibilità al nostro cervello di distrarsi da solo. Cioè mentre facciamo le faccende, se le facciamo in silenzio, la nostra testa incomincia a pensare, viaggia, fa e si distrae effettivamente, cioè stai stirando, non stiro, vabbè, esempio del cacchio, però stai stirando, chi stira? Se incomincia a pensare non si accorge nemmeno che sta stirando, perché la testa va, la testa viaggia e non lo so, sarà che mi piace tantissimo leggere, però questa cosa che la testa ti può portare in un'altra dimensione, in un altro mondo, farti vedere altre cose mentre stai facendo un'altra cosa distrarti. È una connessione talmente profonda con il nostro io che mi scimmia tantissimo, termine tecnico. È bellissimo e mi voglio impegnare assolutamente a farlo di più e un consiglio per riuscire a farlo è fare una cosa, una cosa per volta. Decidere, cioè non è che bisogna fare tutto così, io senza musica non mi allenerei e faccio fatica ad allenarmi perché mi piace, mi piace ascoltare la musica, mi gasa, però insomma, cioè queste cose possono essere implementate una volta sì, una volta no, magari una volta mangi in silenzio, mindful eating, ok, una volta mangi guardando la televisione in compagnia dei tuoi amici, capito? cioè sono cose, prendete sempre questi consigli un po' con le pinze. Ultima cosa, il contatto con il nostro corpo. Ma non ci tocchiamo mai? Cioè ci facciamo mai così? Un abbraccio così? Quando mai? Cioè, ok, forse voi sì, io no. Però veramente, cioè, un abbraccio, una stretta del braccio, della spalla, della gamba, questo, l'accoccolarsi. Cioè, siamo sempre pronti a toccare gli altri, il nostro partner, la nostra famiglia, eccetera, però quasi mai tocchiamo noi stessi. E questa è una cosa che io sto piano piano implementando e noto che effettivamente aumenta il senso di intimità che possiamo avere con noi stessi e anche imparare a conoscerci, imparare a scoprire e esplorare il nostro corpo. Come quando tocchi una persona, l'intimità con questa persona aumenta, no? Cioè, la senti vicina perché ti ha permesso di abbracciarla e tu ti senti in diritto di poterla toccare, che comunque è una cosa molto personale. E quindi, imparare a farlo con noi stessi può aumentare la nostra intimità nei nostri confronti e quindi anche la connessione che possiamo avere con noi stessi. Quindi, questi sono cinque consigli che mi sento di darvi per aumentare la connessione e sentirsi più centrati. E queste sono anche cinque cose che io faccio periodicamente, cioè non ogni giorno come dicevo, per essere più connessa con me stessa. Su di me funzionano. Io quest'ultimo anno sono veramente migliorata tantissimo sotto questo punto di vista. Chi mi conosce mi reputa molto più zen e la cosa mi rende veramente felice perché penso che noi staremo con noi stessi per tutta la nostra vita. E quindi è bene sapere chi siamo, ciò che proviamo e avere un rapporto molto intimo con noi stessi. Voglio iniziare questo Silviembre così. Spero che questo video vi abbia dato qualche spunto, che vi sia stato utile e che possiate implementare questi consigli. Fatemi sapere quali trovate più utili, quali implementate, sapete che questo è il principio su cui si basa Bloomwell, la mia azienda. Questo inteso come Silviembre. Quindi dare dei consigli, degli strumenti pratici per vivere il benessere. Vivere una vita sana, connessa, dove il benessere e lo stile di vita sano è la base. Quindi preparatevi a grandi cose. Noi non vediamo l'ora di uscire. Stiamo preparando tutto. e iniziamo così Silviembre e sono sicura che sarà un anno bomba. Grazie per aver guardato questo video. Noi ci vediamo nel prossimo. Lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi al canale che il vostro Embre abbia inizio. Ciao ciao! 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 Grazie a tutti